Ma questo grande reset, le direttive furono date nel 2013, perché a Davos, nella riunione annuale del World Economic Forum nel 2013, furono stabiliti cinque fattori X che potevano mettere a rischio la stabilità del sistema. Attenzione, quando parliamo di stabilità del sistema intendiamo dire la preservazione del loro potere. I cinque fattori X li spiegarono all'epoca con questo video, che io scaricai direttamente dal sito ufficiale italiano del World Economic Forum. Il report also highlights five X factors, emerging concerns with uncertain consequences. These are the costs of living longer, runaway climate change, significant cognitive enhancement, the rogue deployment of geoengineering and the discovery of alien life. Wow! Uno dei cinque fattori X è la scoperta di vita extraterrestre. Attenzione, non che loro dicono la scienza scoprirà la vita extraterrestre, ma che la società civile, grazie ai ricercatori e ai divulgatori, sta prendendo coscienza che gli extraterrestri sono qui. Ma non è quello il problema, è qui la conoscenza che questi esseri ci portano. Questo gli fa paura. Andiamo ad analizzare punto per punto. Costo dell'allungamento della vita, fattore che mette a rischio il sistema, cioè noi popolo viviamo troppo. Quindi questo popolo e la fascia anziana dev'essere eliminata. Facile. Lo dicono loro. È un problema. Questi sono i punti che potrebbero far crollare il sistema. Viviamo troppo. Bisogna falciare. Aumento incontrollato del cambio climatico. Ma il cambio climatico aumenta perché noi, con le nostre attività produttive e industriali, stiamo distruggendo la natura. Quindi bisogna fare qualcosa. E questi due punti già viaggiano in parallelo. Riguardano il popolo. Poi ce n'è un altro che riguarda il popolo. Guardate un po'. Significativo incremento cognitivo. Cioè incominciamo a sapere troppo. Grazie alla rete. Noi incominciamo ad alzare la testa e a dire ma questa cosa non è come la raccontano loro. Ecco, quindi bisogna tagliare la offerta di conoscenza al popolo. Sviluppo sfrenato della geo-ingegneria. Questo mi fa pensare che determinate attività scatturissero da fronti del sistema non confacente ai loro interessi. Cioè che ci sia una specie di guerra. Infatti, avete fatto caso che dal cielo è un po' che non si vedono più tutte quelle scie? E' accaduto qualcosa. E infine, la scoperta di vita extraterrestre. E' un fattore di rischio. Quindi il grande reset, se ci fate caso, tutto quello che è legato al virus lo trovate grazie a questo qui. Quali sono le fasce di età che sono state soprattutto colpite? Quelle anziane. Quelle che hanno fatto pungere più di tutto. Più di tutti. Le fasce anziane. C'è una relazione. Bisogna cambiare la tipologia industriale. Elettrificare, robotizzare ed eliminare popolazione. Perché? Perché per fermare il cambio climatico dobbiamo produrre per meno persone. Quindi ci debbono essere meno persone che consumano. Quindi questi demoni prima hanno spinto il capitalismo e il consumismo al massimo. Adesso hanno visto che non riescono più a gestirlo. Qual è la soluzione? Maggiore giustizia? No. Noi rimaniamo quello che siamo. Lavoriamo sul popolo. Significativo è un incremento cognitivo. Adesso persino Paypal si è messo a censurare. Se il tuo divulgare dà fastidio al sistema Paypal ti chiude il conto. YouTube ti chiude il canale. Quindi stanno accadendo cose che sono palesemente dittatoriali non nei media perché i grandi media le televisioni sono assolutamente nelle loro mani. E la scoperta di vita extraterrestre che è il fattore più incontrollabile di tutti perché mentre tutto ciò che riguarda la rete il popolo la medicina quindi l'allungamento della vita loro lo controllano gli extraterrestri non li controllano. Bisogna inventarsi qualcosa. Ecco che nasce la disclosure la rivelazione del Pentagono. Andiamo a leggere cosa scrissero all'epoca. Davos fattore X scoperta di vita aliena nel suo Global Risk Report 2013 quindi rapporto sui rischi globali il World Economic Forum in corso a Davos ha identificato insieme a Nature quindi sulla parte scientifica i cinque fattori X di rischio ovvero i potenziali giochi che cambierebbero i giochi game changer cioè quei fattori che cambierebbero i giochi cioè che cambierebbero il sistema e sono quei cinque che abbiamo visto che potrebbero cambiare il nostro rapporto con la natura e il pianeta nostro rapporto non sono noi nostro rapporto sono loro il loro rapporto con la natura e il pianeta non il nostro noi siamo solo le bestie nel recinto il valore che noi abbiamo per questa elite è solo questo siamo carne da macello considerando il ritmo dell'esplorazione dello spazio è sempre possibile che si possa scoprire l'esistenza di vita aliena o di altri pianeti che potrebbero sostenere la vita umana quali sarebbero gli effetti sui flussi di finanziamento della scienza e sull'immagine di sé che ha l'umanità poi c'è un rapporto molto lungo che descrive questo problema dove sono mischiate delle solenne fesserie assieme a delle verità perché loro le cose le mischiano per non farcele capire bene ma la parte finale conclusiva è molto interessante questa è la parte conclusiva del report del World Economic Forum del 2013 che riguarda la scoperta di vita extraterrestre nel lungo periodo le implicazioni psicologiche e filosofiche della scoperta potrebbero essere profonde se le forme di vita anche forme di vita fossili si trovassero nel nostro sistema solare per esempio l'origine della vita sarebbe facile cioè se in un qualsiasi posto nell'universo la vita potrebbe emergere emergerà cioè la vita nell'universo è un fattore normale non è un fattore eccezionale come c'è stato venduto fino a ieri ciò suggerirebbe che la vita potrebbe essere naturale e onnipresente in qualsiasi parte dell'universo come nelle stelle e nelle galassie la scoperta della vita in forme anche semplici anche ma soprattutto ovviamente in forme complesse cioè altri esseri umani alimenterebbe la speculazione circa l'esistenza di altri esseri intelligenti e sfiderebbe molte delle convinzioni che sono alla base dell'attuale filosofia umana e della religione attraverso campagne di educazione di base e di sensibilizzazione ecco quindi la rivelazione del pentagono perché quando loro parlano di campagne di educazione di base di sensibilizzazione ovviamente stiamo parlando non della divulgazione della verità ma stiamo parlando della manipolazione delle masse attraverso quello che diceva il signor Casey direttore della CIA cioè la disinformazione il pubblico potrebbe ottenere una maggiore alfabetizzazione della scienza e dello spazio e capacità di recupero cognitivo che li preparino a prevenire indesiderate conseguenze sociali di una tale profonda scoperta e cambio di paradigma riguardante la posizione dell'uomo nell'universo che significa questa parte finale significa che noi potremmo capire finalmente che non abbiamo bisogno di loro e che possiamo fare benissimo per conto nostro questo è quello che loro non vogliono che noi capiamo ecco quindi che parte da queste premesse da queste direttive date guarda caso nel 2013 che è l'anno successivo alla profezia maia del 2012 che non è quella che ci hanno detto la profezia maia quella vera annunciava che a partire dall'anno successivo sarebbero iniziate delle condizioni nel nostro mondo che avrebbero portato a un grande cambiamento ed è questo cambiamento che loro vogliono impedire il risveglio della coscienza dell'umanità attraverso una dittatura mondiale dell'umanità Grazie.